Eserniana di nascita, ma nelle vene della 27enne Federica Vinci, copresidente del partito pane europeo Volt Italia, scorre sangue santagatese. La giovane figlia del compianto e noto manager Eugenio Vinci, scomparsa in circostanze tragiche il 13 agosto dello scorso anno in Croazia, e una delle due donne italiane, l'altra è Anna Scani, 33 anni, Umbra, vice ministro dell'istruzione e vice presidente del partito democratico, chiamate dalla Obama Foundation Leader nel team dei 35 leader emergenti al mondo. Il programma della fondazione, istituito dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama insieme a sua moglie Michelle nel 2014, giunto alla sua terza edizione, punta a scovare giovani leader nel mondo governativo, della società civile e del settore privato, che abbiano espresso un'indiscussa passione per il servizio pubblico, l'innovazione, la propria comunità. Portare la mia esperienza, la mia storia, chi sono all'Europa, ma non soltanto all'Europa, un po' al mondo, perché questa fa parte di un programma della fondazione Obama, dove vengono ritrovate, rintracciati 30 leader mondiali, partendo tre anni fa dall'Asia, l'anno scorso con l'Africa e quest'anno con l'Europa, per condividere le loro storie, la loro esperienza. E io porto la mia esperienza da giovane donna in politica del Sud, che cerca di cambiare le cose per noi, per le donne e per questa generazione. Dopo un'edizione dedicata all'Africa e una all'Asia, quest'anno è il turno dell'Europa, e Federica potrà partecipare a sei mesi di incontri settimanali, tutti rigorosamente virtuali, conferenze e lezioni, a contatto con politici di esperienza, artisti intellettuali, per un percorso di crescita che potrà poi essere messo a frutto nella comunità di riferimento. Sant'Agata io ho un ottimo, un fantastico legame, ovviamente molto molto forte, perché come dicevi bene, mia madre era di Sernia, ecco, mia madre era di Sernia, e mio padre era Sant'Agatese, quindi io sono su, insomma, una terrona di origini, e questa cosa è una cosa che mi porto nel cuore in maniera molto forte, perché come dicevo qualche giorno fa, il sud mi ha dato terra, valori e amore, e di conseguenza è proprio tutto questo il mio legame con Sant'Agata, tutto quello che mi ha insegnato mio padre, dal lavoro duro all'amore per il mare, all'amore per la mia terra, e questo è un po' anche quello che mi motiva, quindi devo dire che Sant'Agata è gran parte delle mie motivazioni dietro a ciò che faccio. Più che per Sant'Agata di Militello, i miei obiettivi riguardano soprattutto il sud e la possibilità di dare alla nostra terra, che va dal Molise in giù, opportunità per i suoi giovani, perché io sono una di quelle ragazze che dal sud è dovuta andare via, e che ha studiato all'estero, ha lavorato all'estero, perché non vedeva nessuna possibilità nella terra da cui viene. Il mio obiettivo ora è lottare e cercare di trovare soluzioni affinché tutti noi della mia generazione che vogliamo tornare a casa, dal Molise fino a Sant'Agata di Militello, possiamo trovare un motivo per farlo.